E in effetti quest'anno il festival anche per celebrare i cento anni della nascita di Calvino è dedicato alla lettura, leggere per far che cosa, leggere per far qualunque cosa. Questo è l'invito ai giornalisti. Ci sono due panel particolarmente intriganti per i giornalisti. Uno che riguarda i giornalisti culturali e abbiamo davvero un parterre di luminari in quel settore lì e un panel invece dedicato ai giornalisti generalisti, ci sono direttori e coloro che in qualche modo organizzano anche l'informazione per capire proprio cosa leggono, cosa leggete voi giornalisti. E questo è un aspetto. L'altra novità di questo festival, noi facciamo sempre una ricerca su come si informano gli italiani. Quest'anno la nostra ricerca, sempre per celebrare la lettura, riguarda cosa leggono i ragazzi. E abbiamo fatto una ricerca a livello nazionale intervistando ben 2000 ragazzi tra i 14 e i 19 anni. Vi assicuro che 2000 sono un numero molto alto e abbiamo chiesto dove leggono, cosa leggono. Ne viene fuori che gli schermi ormai sono gli spazi più importanti per la lettura, non solo carta, ma ricordatevi che la carta è ancora presente nei ragazzi di quella generazione. E con quei ragazzi abbiamo anche parlato direttamente perché siamo entrati nelle scuole. Quindi la grande novità quest'anno è il coinvolgimento. Gli abbiamo sempre coinvolti, ma quest'anno in modo particolare abbiamo coinvolto la generazione Z. Perché è ovvio che voi, non in futuro, oggi parlerete a quella generazione. Quindi la comunicazione riguarda e l'informazione riguarda soprattutto loro. Questa è una grande novità. Tutto questo è raccolto in un libro che verrà presentato domenica mattina con delle eccellenze. E ci sarà una chicca perché alla fine di questa presentazione di questi dati che riguardano la generazione Z, una neuroscienziata, la professoressa Matteoli, ci dirà se si legge ugualmente su uno schermo. Se il cervello funziona allo stesso modo, se si legge su uno schermo, si legge sulla carta. Credo che questo sia un aspetto molto importante, a cui noi teniamo molto. Ci sono due premi dedicati ai giovani. Un primo premio che verrà consegnato venerdì e riguarda il giornalismo ambientale, giovane. Cioè chi si occupa di ambiente, perché cultura è anche questo. E il secondo premio invece lo consegna direttamente il festival, è il premio proprio Fiji Cult 23, che è stato già assegnato. C'è già una vincitrice e noi lo dedichiamo a giovani che abbiano meno di 40 anni, perché riteniamo che i premi vadano date alle popolazioni più giovani. Chi fa questo mestiere da tanto tempo probabilmente ha più possibilità. E ha vinto una giovane donna che scrive anche in una importante testata e quindi consegneremo a lei il premio Fiji Cult 23. Grazie.